Si è messa in moto la macchina pugliese delle vaccinazioni contro il coronavirus. Il numero delle dosi somministrate ha ormai superato la soglia dei 16.000, come riportano le ultime informazioni fornite dal Ministero della Salute. Solo nelle ultime 24 ore, fa sapere l'assessore regionale della sanità Pierluigi Lopalco, sono stati iniettati circa 5.500 dosi destinate ad operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle case di riposo presenti sul territorio. Un numero che ha addirittura raddoppiato quello del giorno precedente. Con le ultime vaccinazioni, anche se il dato in continuo aggiornamento, la Puglia ha somministrato il 62,2% delle 25.885 confezioni arrivate in questa prima fase della campagna vaccinale, posizionandosi tra le prime regioni d'Italia quanto a totale di dosi consumate. Ma a dare qualche grattacapo adesso sono i ritardi nella consegna della seconda tranche di vaccini anti-Covid, che potrebbero in qualche modo far inceppare la macchina organizzativa. Le confezioni sono state consegnate solo parzialmente, ha fatto sapere l'assessore Lopalco. Rispetto alle 27.000 dosi previste dal Piano Nazionale, ne sono state distribuite poco più di 7.000. Ma niente paura, la parte restante, sottolinea Lopalco, dovrebbe comunque arrivare in giornata. Complessivamente, la Puglia dovrebbe ricevere entro la fine di gennaio circa 95.000 dosi che serviranno a vaccinare ancora operatori sanitari e anziani delle RSA che in questa fase avranno ancora la priorità, mentre ad aprile dovrebbe partire la somministrazione anche per le altre fasce della popolazione. Intanto, di pari passo col resto della regione, la campagna vaccinale è entrata nel vivo anche nella BAT. Ieri è stato ufficialmente avviato il centro di vaccinazioni allestito presso l'ospedale Bonomo di Andria nell'unità operativa di medicina trasfusionale con la somministrazione delle prime dosi destinate al personale medico. Al momento, nella sesta provincia, sono presenti tre diversi punti di vaccinazione. Oltre al già citato Bonomo di Andria, sono attivi anche gli ospedali di Barletta e Biceglie.